ci hai ricordato quanto potere abbia in mare il capitano di una nave tu hai citato insomma che sta in prima istanza in prima battuta al capitano della nave identificare nella situazione di emergenza quale sia il il posto più sicuro quello che chiamano il post il place of safety e tra le altre cose tra le altre prerogative il capitano di una nave può anche sposare una coppia no però gli stati europei si possono si sono guardati bene a tanti nostri partner europei da il limitare il limitare la possibilità che qualcuno aveva proposto per il comandante anche di raccogliere le prime domande di asilo è una questione puramente politica cioè il diritto concederebbe in generale al capitano la possibilità di accettare queste richieste perché comunque bandiera battente eccetera eccetera quello che sentiamo ogni settimana cerchiamo di semplificare la la dottrina insomma la è tradizionalmente si dice che la nave è uno stato fluttuante quindi sulla nave si applica il diritto dello stato della bandiera tuttavia non tutte le prerogative di uno stato sono per seguibili dal comandante ma questo perché lo prevede una legge nazionale ok se da un lato effettivamente il comandante può sposare perché è un pubblico viene riconosciuto viene equiparato a un pubblico ufficiale dall'altro lato poiché l'ingresso e la o l'espulsione quindi la gestione delle domande non ha non è un istituto di diritto civile come lo è il matrimonio quindi tra privati ma invece una natura di diritto pubblico perché il diritto dell'immigrazione è un diritto e fa parte del diritto pubblico è un ramo del diritto amministrativo è chiaro che la potestas come alcuni che sono soliti utilizzare questo termine la potestas quindi la il potere di poter decidere rimane in capo all'autorità statale e nello specifico alla all'autorità amministrativa competente che nel nostro caso appunto sono sono il ministero dell'interno con tutte le sue le sue eradicazioni